Domani sera aprirà il mese d'aprile e darà inizio al rush finale di questo campionato. Nove partite in due intensi mesi, con la speranza, che poi è una concreta possibilità, che magari a fine del primo mese si possa festeggiare. Festeggiare qualcosa di impensabile, qualcosa di inatteso ma allo stesso tempo meritato da un gruppo impeccabile che sta seguendo per filo e per segno le indicazioni del proprio condottiero. Ma non andiamo oltre con la fantasia, concentriamoci sull'impegno di venerdì. Mister Juric ha detto e ripetuto che vincere con Lanciano può significare mettersi davvero bene, provare la definitiva fuga. Ed allora si punta al ritorno di Budimir dopo la squalifica e da quello di Ricci, il quale, come detto sempre da Juric, ha fatto una decina di giorni di quasi vacanza e dovrebbe perciò essere titolare. Se non ci sono dubbi sul reparto avanzato, qualche dubbio permane negli altri reparti. In difesa mancherà Ferrari, ma recupererà Clayton, il quale stringerà ancora i denti. Il terzo di difesa sarà uno tra Cremonesi e Balascia, a meno che non si giochi con una difesa a quattro con Zampano e Garzia Tene a terzini, Clayton e Cremonesi centrali. A centrocampo non giocherà a paro, uscito malconcio da Avellino. Probabile dunque rivedere Capezzi dal primo minuto. Sugli esterni Martella e Di Roberto dovrebbero essere sicuri del posto. Accanto a Capezzi, invece, è probabile la presenza di Aniello Salzano, il quale ha parlato in conferenza stampa. Aniello Salzano, venerdì arriva il Lanciano, una gara che sarà comunque difficile. Sì, è vero che il Lanciano ha perso l'ultima partita in casa, però veniva da una serie positiva importante. Hanno fatto un balzo in classifica e vogliono una salvezza. Come dovrete affrontare questa gara? Sì, dovremmo affrontare questa gara nei migliori dei modi, come abbiamo sempre fatto finora. Loro vengono da una sconfitta in casa, ma prima avevano fatto cinque filotti consecutive di quattro vittorie e un pareggio. Per cui non è da sottovalutare, è da prendere con grande attenzione e dare il 100%. Come è andata la settimana? State bene? Vi siete allenati bene? C'è qualche informazione? Sì, ci siamo allenati benissimo, come tutte le altre settimane, perché anche con il mister è impossibile innalsi male. Ci tiene sempre tutti sul pezzo, per cui abbiamo preparato nei migliori dei modi. Domani ci sarà la rifinitura con la formazione ufficiale, per cui siamo pronti. Ci sono giocatori che si sono fatti notare più di altri nel Lanciano. Parliamo di Di Francesco o Ferrari, che è un ex, sta facendo pellecchi gol nelle ultime gare. Avete provato qualcosa per loro? La fase difensiva l'avete curata un po' meglio? No, noi non guardiamo i giocatori in sé, guardiamo un po' tutto il complesso. Per cui sappiamo che Di Francesco si è fatto male in settimana e non so se sarà disponibile. Comunque è un ottimo giocatore, da stare attenti. E noi, niente, se giochiamo con la giusta concentrazione possiamo fare bene bene. A nove giornate dal termine servono sempre meno punti per coronare questo sogno. Quanto siete determinati e quanto ci siete vicino? Sì, il distacco dalla terza è importante, 14 punti. Noi dobbiamo guardare partita dopo partita e trarre il massimo da ogni gara. Ancora non avete pensato a un'ipotetica gara nella quale festeggiare la certezza matematica? No, ancora non abbiamo pensato perché in Serie B, come sappiamo tutti, è difficile calcolare le cose. Tutto può succedere, noi dobbiamo solo affrontare partita dopo partita e ci rimangono nuove finali. L'ultima battuta, l'anno scorso hai avuto una stagione un po' tribolata, poi sei rimasto qui a Crotone. Avevi mai pensato all'inizio stagione di trovarti ad aprile, quasi ad aprile a questo punto della classifica, a questo punto del campionato? No, a questo punto della classifica non me lo sarei mai aspettato. È stata una sorpresa come tutti quanti parlano. Siamo giovani, ci stiamo impegnando sempre alla grande ed è grazie anche al mister che ci sta spronando, ci sta tirando fuori tutti i nostri pregi. Quella di domani sarà dunque una gara da prendere con le pinze, ma siamo certi che gli squali, sospinti da un pubblico delle grandi occasioni, almeno questo si spera, daranno il massimo per ottenere i tre punti. L'US Catanzaro si prepara alla prima delle sei battaglie che condurranno alla fine del campionato. Domenica i giallorossi faranno visita al Messina alla ricerca di punti salvezza. Sentiamo le parole dell'attaccante Andrea Razzitti. Sarà sicuramente una partita difficilissima sotto tutti i punti di vista perché il Messina è una squadra competitiva. Come dici tu, ci sono scontri diretti in casa e dei gioli da andare a pescare fuori. Sono partite tutte difficili. È inutile girarci intorno se vogliamo salvarci senza passare dei play-out. Dobbiamo fare ancora almeno tre vittorie. E quindi questo è l'obiettivo. Sicuramente il gol mancava da parecchie giornate, da tanto tempo. Quindi diciamo che per vincere la partita bisogna anche far gol oltre a non subirlo. Quindi è sicuramente una cosa importante per gli attaccanti far gol perché dà serenità. anche se bisogna fare complimenti a tutta la squadra per l'ultima partita perché è stata interpretata veramente con l'atteggiamento giusto. Volevamo a tutti i costi tre punti. Per qualcuno poteva sembrare scontato visto che si giocava contro l'ultimo in classifica però non è mai facile quando devi per forza vincere contro una squadra che non ha niente da chiedere. Quindi siamo contenti per quello che abbiamo ottenuto. Grazie a tutti.